Troppo buone le ciambelle del bar, quelle sofficissime e morbidissime. Prepariamole insieme. Lessa le patate e poi schiacciale. Aggiungi lo zucchero, il burro, la scorza grattugiata dell'arance, la farina e il latte in cui sciolte il lievito. Impasta, forma un panetto morbido, poi lavoralo su un piano di lavoro con dell'altra farina per non farla appiccicare più. Poi fallo lievitare fino al raddoppio. Quando è pronto, stacca dei pezzettini, forma delle ciambelle, sigillale bene e friggi nell'abbondante olio di semi caldo. Falle dorare e poi falle sgocciolare su carta assorbente. E infine passano nello zucchero semolato. Ed eccole qui, buonissime! Uno tira l'altra, buon appetito amici! Ciao!